Volevo darvi un consiglio per l'estate. Un problema molto comune è la pelle secca. Volevo consigliarvi una maschera viso. Noi abbiamo questa dei nostri laboratori che contiene burro di karité, lantoina e acido ianuronico. Un balsamo filler che va applicato uniformemente su tutto il viso la sera e lasciato agire per tutta la notte. Vi consiglio un trattamento proprio intensivo di sette giorni da sostituire al normale trattamento per potenziare appunto la capacità della crema antirughe successivamente e questo vi lascerà la pelle più luminosa e compatta. E' ottimo anche per questo periodo estivo perché la pelle dopo una giornata al mare che la pelle risulta arrossata, un po' disidratata, serve a ridare appunto la giusta idratazione. Grazie